La città d'Ofrani In occasione di questa giornata le associazioni nazionali combattentistiche d'arma, le autorità religiose civili militari si trovano qui per una cerimonia che rappresenta un momento di preghiera e ricordo comune. Questa giornata è per noi interamente dedicata alla gemore dei parenti, degli amici e degli innumorevoli e molte vittime della violenza umana e di coloro che ci hanno preceduto e di cui vogliamo mantenere vivo il ricordo e l'insegnamento. Si procede adesso al primo momento della cerimonia. Alza bandiera. Alza bandiera. Alza bandiera. Alza bandiera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chi procede adesso al secondo momento della cerimonia saranno diposte le corone da loro e vengono l'onore ai caduti. Corone a posto. Otto tirate a te. Besita a te. Orori ai caduti. 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 Grazie. Grazie. Grazie.